Un tavolo tecnico permanente per individuare misure contro la crisi idrica in Sicilia è stato istituito dal presidente della regione Renato Schifani. Già nelle prossime ore si terranno a Palazzo d'Orleans varie riunioni con gli assessori all'agricoltura e all'energia Luca San Martino e Roberto Di Mauro, insieme ai dirigenti generali del dipartimenti regionali competenti e ai responsabili dei consorsi di bonifica Sicilia Acqua, Enel Produzione, Enel Green, Eni e dei nove ato idrici dell'isola. Attualmente, così come attestato dall'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico della Sicilia, la situazione vede uno stato di severità idrica bassa in tutta la regione, ad esclusione del comparto delle zone irrigue in sofferenza servite dagli invasi Pozzillo, Nicoletti e Don Sturzo, nelle province di Catania, Enna e Siracusa, a cui è stato attribuito invece una severità media. Inoltre, il permanere di situazioni meteoclimatiche non favorevoli ormai tendenti alla stabilizzazione verso l'assenza di precipitazioni fa prevedere un trend negativo. Da oltre due mesi, sottolinea il presidente Schifani, la regione ha messo in campo una serie di misure per mitigare la siccità. Sono stati attivati una serie di tavoli con soggetti e denti interessati per migliorare la capacità di accumulo delle dighe attraverso l'eliminazione dei detriti depositati sul fondo degli invasi. Un'ulteriore spinta in tal senso è arrivata dall'approvazione dei piani di gestione proposti dai gestori delle dighe e autorizzati dall'autorità di bacino della Presidenza della Regione. Adesso, ha concluso Schifani, dopo diverse riunioni con il coinvolgimento dei consorsi di bonifica e degli enti erogatori dell'acqua, per rendere più celere i lavori per il riefficientamento delle condotte idriche, si rende necessario un tavolo permanente con gli enti interessati, dove si esamineranno tutte le proposte possibili per affrontare l'eventuale crisi idrica che potrebbe verificarsi nel prossimo periodo estivo.